Umberto Carra, Junior Estregionale Orizzonti, insomma questo avversario impegnativo e tosto, però mi sembra che anche tu ci hai provato a contrastarlo. Sì, purtroppo è andata come è andata, poi abbiamo giocato bene. Al primo tempo abbiamo giocato penso una gran bella partita, poi per i 20 minuti del secondo tempo abbiamo un po' mollato e poi anche con le espulsioni non siamo riusciti più a concretizzare le azioni. Emerge però veramente, l'abbiamo detto finora, questa grande determinazione che vi accomuna tutti, il gruppo, perché comunque nonostante foste in 9 contro 11, insomma ci avete comunque provato fino alla fine. Sì, certo, questo è un gran gruppo, io niente, c'è andata male purtroppo. Senti, un tuo giudizio su quelle che sono state queste partite iniziali, quindi con iniziali intendo del ritorno, quindi Biellese, 9 e oggi Fulgo, Ronco, Valdengo. Ma sì, sono le prime tre in classifica, sono quelle, non dico candidata alla vittoria, però comunque si vede che avevano un altro passo rispetto alle altre, abbiamo fatto 4 punti, purtroppo c'è mancata la vittoria contro il 9, è andata come è andata. So che comunque contro il 9 avete disputato un'ottima gara. Sì, abbiamo disputato una gran bella gara, purtroppo però le occasioni sono state dalla loro e sono stati più bravi. Senti, in settimana dovete prepararvi per il prossimo avversario, insomma bisogna recuperare punti ed è tutto fattibile. Sì, sì, certo, adesso lunedì ci incontreremo e ricominceremo di nuovo ad allenarci come prima, perché adesso dobbiamo fare veramente punti per raddrizzare un po' questo campionato. Grazie.